il tema dei privilegi. Per quanto riguarda invece il 2-4 di deficit, ha ragione lei. Il tema è cosa si fa con questo 2-4 di deficit. Se aiuti la gente, si arrabbiano. Se aiuti sempre i soliti, non si arrabbiano. Io non credo di aver fallito sul lato imprese, perché con l'introduzione della flat tax per le partite IVA, l'abbassamento dell'IRES per chi fa investimenti o assume, soprattutto a tempo indeterminato, noi abbassiamo le tasse per diversi miliardi di euro nella legge di bilancio a quelle imprese che o fanno investimenti o assumono. Io sono molto contento della misura della flat tax per le partite IVA, perché tutte le partite IVA, fino a 65.000 euro di reddito, pagheranno solo il 15% di tassa unica. Questo significa aiutare tanti giovani e meno giovani che si stanno lanciando nel mercato del lavoro e che adesso hanno bisogno di una spinta, perché non è più il mercato di 30 anni fa, ma è il mercato di oggi che è una giungla. Quindi ancora una volta aiutiamo quella parte di imprenditori, quella parte di commercianti, quella parte di industrie, che sia con la flat tax sia con l'IRES in legge di bilancio sono protagonisti. Poi ci sono tante altre cose da fare, ma ricordiamoci anche che tanti imprenditori rientrano nel fondo salva truffati delle banche, perché ricordo tanti imprenditori del Veneto che sono stati colpiti da fallimenti delle banche venete. Quindi io credo che ancora una volta le imprese siano al centro di questa legge di bilancio, anche perché con i pensionamenti della legge Fornero permettiamo alle imprese di assumere a meno costo, nel senso che un dipendente a fine carriera costa molto di più di un dipendente che entra adesso e inizia la sua carriera e questo gli consentirà anche di poter gestire diversamente il proprio personale, il proprio costo del personale. Grazie a tutti.